L'Ama, l'azienda della mobilità aquilana, lancia gli obiettivi per l'anno 2019. Innanzitutto sarà premura del nuovo amministratore unico da poco nominato Gianmarco Berardi fare un piano industriale di ristrutturazione e di rilancio dell'azienda per riportare soprattutto i costi in equilibrio e in attivo. E poi ci sono tante idee da sviluppare che l'amministratore Gianmarco Berardi ha già in mente. Oltre ovviamente a voler riportare i conti in equilibrio, si vogliono migliorare tutti i servizi per l'utente per far sì che l'utilizzo dei mezzi pubblici torni in auge in questa città. Più servizi dunque per gli utenti. Idee che saranno condivise naturalmente con l'assessore alla mobilità Carla Mannetti con la quale si sta collaborando anche per la stesura del nuovo POMS il piano urbano della mobilità sostenibile, c'è già il quadro conoscitivo. L'anno nuovo si apre però con una prima novità. Verrà data la possibilità ai fruttori degli autobus di poter acquistare i biglietti online. Ci sarà un'applicazione da poter scaricare sullo smartphone, ma rimarrà in vigore anche il vecchio SMS, soprattutto per le persone più anziane. Non ci saranno costi aggiuntivi. Comprare il biglietto sul bus, infatti, costa di più. Un'altra proposta dell'amministratore Berardi è quella di mettere a disposizione degli utenti un numero WhatsApp, cui gli utenti potranno fare le loro segnalazioni, anche di servizi, per dialogare direttamente con l'azienda, che potrà comunque rendersi conto della situazione direttamente. Un'innovazione per Berardi potrebbe essere anche l'uso di un canale Telegram. L'uso di questo mezzo, secondo lui, consentirebbe all'azienda di poter avere una comunicazione unidirezionale verso l'utente per veicolare tutte le informazioni che riguardano l'AMA. Tra l'altro, si vuole installare anche un GPS per localizzare gli autobus in giro per la città. Questo consentirebbe all'utente di evitare le attesi alla fermata e di poter sapere velocemente dove si trova il bus al quale si è interessati. Sono ovviamente idee, ma sono realizzabili e soprattutto per Berardi non hanno costi, tranne in un caso, ma si tratta comunque di costi contenuti, rispetto al miglioramento del servizio che poi si va a dare. L'AMA avrebbe bisogno però anche di un ringiovanimento del parco macchine. In questo senso, con l'ingresso nel patrimonio dei 15 bus completamente elettrici che viaggeranno all'Aquila, come ha detto la Mannetti, entro il 2019, qualcosa si sta già muovendo. Saranno installate anche delle zone dove poter ricaricare gli autobus, sia per la ricarica lenta che per la ricarica veloce.